Bene, allora, cosa abbiamo intenzione di farli? Oh, sì, aspetta solo che cambi forma Oh, non capisco perché hai scelto di diventare un bicchiere, ma va bene Cosa abbiamo intenzione di fare? Beh, prima dobbiamo spiarli Eh, guarda Cosa? Devo vedere La non ci sono più Appunto, dove sono andate? Non lo so Non ci posso credere Oh, non ci sono dietro, andiamo Grazie aereo Sì, sì Ora fa silenzio, devono essere qua dietro Dobbiamo anche fargliela pagare perché mi hanno rubato il mio ex posto Cioè, il tuo ex posto Eccole lì Che stavano facendo? Rimani qua dentro, così se dovessero arrivare possiamo volare via Va bene Beh, non ho ritrovato il video Già, perché ci siamo sposati qui? Perché là non prendeva bene Oh Oh Ehi, cosa fai? Avevi detto che non dovevo uscire Silenzio, loro stanno colando il video delle sue valigianze Oh, e allora cosa c'è di mare? Dobbiamo interromperli Sembrerà un ottimo dispetto Quindi, se rompiamo la connessione Oh, sì, ti avrà molto fastidio Vado subito a rompergliela Per cominciare la farò pagare a Larry Perché quando il sogno era arrivato mi ha balciato e mi ha strozzato Era raffreddato e mi ha passato il raffreddore Larry, ti prego Che puzza, non farlo proprio vicino a me Sono svenuto Ma non sono stato io Che puzza No, ma ragazzi, ma non sono io Certo, la puzza veniva da te Ma Arriva Va via Rischia di vedermi Idea Allora, te l'ho cacciato fuori Eh? Oh, sì Tu cosa ci fai? Mi giravo qui Lo sapevo che ti avrebbero cacciato Vedi, sono delle false amiche Amici? Beh, sì Io non ho fatto una puzza Deve essere stato per forza Uno di loro Ah, uffa Beh, quindi E Perché con Larry Non si sono mica riconciliato Invisibilità Beh, io posso darti la possibilità di fargli la pagare Unisciti a me e Oscurator Oh, fantosco, bene Devi prendere l'onore Ma non lo so Cioè, lì ci sono anche mia madre Mia sorella e mio padre Ti hanno tradito Ragolino è stata la prima a dire Eh, che puzza E Larry E E E Giovanni ha detto addirittura Sparisci E poi Pulce non è mai con te E sempre In giro a prendere lucertole E mangiare O dormire Non hai ragione Ho una famiglia schifosa E degli amici Traditori Mi unisco a voi Bene, bene Vedo che abbiamo un nuovo complice Esatto L'hanno buttato fuori Ah, bene Ora che se ne è andata Possiamo cominciare Cioè, continuare Va bene Ma cosa? Ragazzi È stato di seno a scuoletto E Il Larry E E Tonno Origlio Quella Dicono Cosa Cosa dicono Ok Ne date guardiammi qui Bene Bene Allora Cosa vogliamo cominciare? Cominciare a fare cose Ah, gli ho tolto il wifi Così il video non partirà Un vero affare Ah, sì Non vedo l'ora di vedere la faccia di Francesca Che ti ha affaticato tanto a trovare i video Cosa? Ragazzi Ah, come hai tolto il wifi? Ah Ehi, che ci fai qui? E levati Larry Perché sei diventato cattivo? Voi perché siete diventati cattivi? Mi avete escluso dal club Solo perché ho fatto una puzza E poi non l'ho fatta veramente io E poi sono andata lì Non ti abbiamo cacciato dal club Ti hai detto solo di andare un po' lontano Se dovevi andare in bagno Oh Forse Non darti ascolto Sta mentendo Sì Abbiamo tolto il wifi Così imparate Ma il video non parte Si vede che non c'è il wifi Ma qua il wifi c'è sempre Ragazzi Il video non va Perché loro hanno tolto il wifi Cosa? Venite qui Allora perché avete tolto il wifi? Ci servì Sì certo Guardare i video su youtube Mentre a me non pensate proprio che ho avuto Guardare i video su youtube Ma che dici? Stavamo guardando i video delle telecamere Già Volevamo aiutarti Noi ci vogliamo ancora nel gruppo E stavamo facendo il possibile Ma si vede che tu hai già dell'ottima compagnia Oscurator E anche unito Larry Io non ti riconosco più Inutile dire Che tra noi finisce qui Perché è finito Da quando lui Ha messo Piere in questa casa Che non è Non è mai stata sua Non lo è E mai lo sarà Oscurator Mi hai mentito Hai mentito anche a me Lui è un traditore da quattro soldi Hai rovinato la nostra amicizia Da quando hai messo Piere qua Si può sapere che Ca Ti abbiamo fatto Già Ora Diccelo Ora è per sempre Ora è per sempre Ora è per sempre Non serve Ora è per sempre 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 Ora ok ok ora basta evviva finalmente spara al rospo dopo tutti questi mesi io vi tratto male perché perché continua iscrivetevi a me e a like bene ragazzi anche questo episodio finisce qui lo so morite dalla voglia perché per saperlo vi dico solo una parola poi lo scoprirete nel prossimo episodio evviva finalmente scopriamo perché c'è da fastidio per tutti questi mesi allora perché io non ho e non ho mai avuto e credo che non avrò mai una dirò la parola e poi dopo il video finirà subito voi iscrivetevi e se vi è piaciuto questo video mettete un pollicione ok famiglia